Buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Con Maurizio, con Maurizio, con Maurizio, dove sei, dove sei con Maurizio, vieni qua, vieni qua, vieni qua, Adriana, dove è Adriana? Adriana, dove è Adriana? Con Maurizio, buonasera. Don Gerardo, Don Gerardo, oh, l'India, oh, è arrivata la noteria, avvicinatemi, fermi, fermi qua, che ci facciamo di me la foto. Posizionatevi solo, Gabriele. Ok, accomodatevi con palma, sforga Gabriella, sforga Gabriella. E Elissa, oggi è lì vicino a me, perché non l'abbiamo vista. Allora, avvicinatemi tutti qua, così facciamo la foto e poi ci mangiamo il pane con la nutella. Ragazzi, avvicinatemi, siamo arrivati con l'Utella. La signorina Pigliecce, mamma mia. La signorina Pigliecce, la sorella di Don Giuseppe, la sorella di... Il pupetto di lei. Allora, vuoi dire due paroline? Ciao, come ti piace? Allora, accomodatevi. Serafina, ma sentati. Accomodatevi, prego, prego. Guardate l'arco, 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 l'arco. Aspettavi. Così. Allora, l'arco. Ci si è sembrato per favore tutti? Simone e l'arco, vai, qua sotto, vai. Se l'hai con i saliti, così tracciamo la foto. Ci si sta bene così, in piedi. Forza in piedi, in piedi. Aga, ciuf, 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 che che ha 한번 un caffè. Aga, ciuf, 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 che che ha 한번 un caffè. Shakeramu lo caffè Shakeramu lo caffè Agaì Si sta bene così Su le gamba Su 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 Shakeramu lo caffè Aga su 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 Shakeramu lo caffè Shakeramu lo caffè Agaì Si sta bene così Agaì Si sta bene così Salto l' или Salto l'uando da Se Guti Aga Aga Chú 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 Shakeramu lo caffè Aga giú Shakeramu lo caffè Tot 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 Shakeramu lo caffè Tot 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 Allora pranzi per la foto Pranzi con la ola Da dove parto? Da qua Pranzi con la ola Una domanda L'animale L'animale E' una domanda seria Dove è il problema? Il problema lo è Gabriele 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 Allora eravamo a camposcola Eravamo a camposcola E a Ivan Io Io Da dietro Vengo io Che sono veloce con il porto e poi ha fatto pure il passo del porto che ora vi fa vedere questo è il passo del porto un applauso per me il detto rutta per rutta rupimola tutta lo sapete bene, Gabriele il detto l'ha trasformato rutta per rutta o è brutta non rutta un applauso a Gabriele allora ci giriamo noi così facciamo la foto ci giriamo? ci stanno facendo la foto se voi vi alzate se voi non uscite in piedi tutti c'è il perino c'è il perino c'è il perino c'è il perino Giancarlo non lo so Don Piero ah Don Piero muoviti ci siamo? Don Piero qua dai se vi girate pure voi se vi girate girate la foto giratevi giratevi che poi ne fate voi giratevi che poi ne fate voi rompi no, no, no dai, dai uuuuh uuuuh chiara è chiara guardiamo chiara chiara sulla 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 ok fatta ok fatta vada 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 vado Un attimo, un attimo, un attimo, non vi muovete, non vi muovete, no, 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 tornate al posto, tornate al posto, tornate tutti al posto, dobbiamo fare la preghiera, tornate al posto. Allora ragazzi, sentite se dentro un attimo, facciamo la preghiera, vi do due avvisi e poi iniziamo a mangiare il pane e il Nutella. Allora, allora ci accomodiamo solo qualche istante, per favore. Ecco, chiudiamo questa giornata, prima di chiuderla in dolcezza con il pane e Nutella, la chiudiamo in bellezza, la chiudiamo in bellezza, rivolgendo il nostro pensiero al Signore, ritrovandoci uniti nella preghiera, e permettetemi di ritornare ancora a ringraziare la comunità parrocchiale di Stefanaconi che ci ha ospitato, la preghiera, il sindaco, l'amministrazione comunale, il parroco ovviamente e gli amici dell'azione cattolica parrocchiale. Un applauso grande all'equipo dell'ACR che ha lavorato e faticato per questa giornata. La veterana dell'equipo, Andriana, che sta distribuendo il testo di un'antica, di un canto che i più giovani tra di noi conosceranno. Poi vabbè, penserà il Presidente a dirvi quegli altri avvisi, però vorrei soprattutto che mi stessero a sentire che mi stessero a sentire i parroci, gli educatori, i presidenti parrocchiali. Allora, come abbiamo potuto ancora una volta sperimentare oggi, è bello ritrovarci e stare insieme. Ci sono anche altri momenti che ci aiutano a farlo. Soprattutto è a partecipare perché sono dei momenti forti per ritrovarsi insieme, per creare sempre più amicizia e fraternità tra di noi, per prepararci nello spirito di servizio che tutti ci deve animare. E allora, così rimanendo seduti, però cerchiamo di creare un clima di preghiera. Allora, ci siamo? E chiudiamo questa nostra giornata rivolgendoci al Signore, rivolgendoci a Lui, al Padre, con le stesse parole che Gesù ci ha insegnate. E' la preghiera del Padre nostro che ci qualifica come figli di Dio, che ci fa riscoprire il nostro essere fratelli, che ci fa riscoprire figli di un unico Padre e ci fa comprendere che essere figli dell'unico Padre, al quale ci rivolgiamo come Padre nostro, deve aiutarci anche a capire di Dio. E allora, possiamo cominciare a pregare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ora chiediamo l'intercessione alla Vergine Maria, la Madonna alla quale particolarmente l'azione cattolica è legata perché è il modello del servizio e dell'impegno. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. E ora ricordiamo in particolare il loro Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, così in pace. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. Buon viaggio, buon rientro, siamo sempre forti. E allora, questo canto si chiama Bianco Padre, è l'inno dell'azione cattolica che qualcuno ricorderà. Vediamo un po' se riusciamo a farlo insieme. Chi lo conosce può aiutarmi a cantarlo. Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica è il cammino, la sua forza è lo spirito divino, origine di sempre nuovo andore, e ogni cuore affronta il suo destino, dotato al sacrificio e dall'amore. Bianco Padre che da Roma ci semetta, luce guida, in ciascun di noi confida, su noi tutti puoi contare. Siamo arditi della fede, siamo arditi della croce, al tuo cenno, alla tua voce, un esercito all'altà. Balte salte salinano le schiere, che l'ora madre dal suo sen di serra, la più santa famiglia della terra, e neve in alto i cuori e le bandiere, ed ogni figlio è pronto alla guerra, votato al sacrificio e dall'amore. Bianco Padre che da Roma ci semetta, luce guida, in ciascun di noi confida, su noi tutti puoi contare. Siamo arditi della fede, siamo arditi della croce, tra il tuo cenno e la tua voce, un esercito all'altà. Viva e crescita la parola, viva la Signore Cattolica, viva la Chiesa! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!